Potenziamento infrastrutturale delle attività depurative, in particolare in una riunione con il presidente D'Alfonso. Il treno dalla Valle dell'Iri arriva a Berlino, iniziative promosse dal comitato, salviamo la ferrovia Vezzano-Roccassecca. Tappa Bruzzese del Giro d'Italia, gli obiettivi illustrati nel corso di una conferenza stampa. Convenio sulla ludopatia Capistrello, successo dell'iniziativa con qualificati oratori. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Sarà composto da vasche di laminazione per complessivi 30.000 metri cubi, ora edifici destinati ai parchi tematici in cui insediare il corso in economia del mare, organizzato dalla Camera di Commercio e una succursale dell'Istituto Zoo Profilattico, gruppi elettrogene per evitare stop di impianti di sollevamento e un sistema di separazione delle acque bianche e nere, il tutto su un'area di 20.000 metri quadrati. La necessità di potenziamento infrastrutturale delle attività depurative del servizio della città di Pescara e del sistema metropolitano sono stati oggetto della riunione operativa presieduta questo pomeriggio a Pescara in Regione dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, incontro che ha visto la partecipazione tra gli altri del Sindaco di Pescara, del Presidente della Provincia di Pescara. In particolare si è fatto il punto sulla progressione progettuale relativa alla realizzazione del parco depurativo di Pescara e al servizio dell'efficientamento ulteriore del depuratore. D'Alfonso ha ricordato che il depuratore è bersaglio di bene due investimenti, uno di prossima firma contrattuale per un importo pari a 8,5 milioni di euro per il quale si attende la validazione del TAR nei prossimi giorni, l'altro pari a 4 milioni di euro. Si tratta di investimenti complessivi per circa 20 milioni di euro, ha concluso D'Alfonso, che daranno certezza di autosufficienza depurativa per qualsiasi ulteriore esigenza. Si dovesse porre a carico della capacità di pescare e di reggere il ciclo idrico integrato. Una donna romena di 26 anni, Nariana Dumitru, residente a Bucchianico, in provincia di Chieti, è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Avezzano per furto aggravato. Nella mattinata di oggi, i militari di una pattuglia del gruppo Radiomobile, impegnati in servizio perlustrativo, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Via 20 Settembre, dove la donna aveva appena sottratto, occultandole all'interno della borsa e della giacca, prodotti cosmetici per un valore di circa 250 euro. La stessa si è presentata alla Cassa per pagare un altro articolo per poi allontanarsi. Peccato per lei che il dispositivo antittaccheggio, contenuto in alcuni prodotti esportati, ha fatto suonare l'allarme. La giovane è stata fermata dal personale di vigilanza che l'ha trattenuta in attesa dell'arrivo dei militari giunti dopo pochi minuti. L'arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano. Di fronte ad una situazione insostenibile per la prima volta, di agricoltori e di allevatori delle aree terremotate dell'Abruzzo, insieme a quelli di Marche, Umbria e Lazio, sono costretti a lasciare le campagne per raggiungere la capitale, dove arriveranno numerosi con i propri animali, che non riescono più a sostenere domani, martedì 7 marzo, dalle ore 9, davanti a piazza Montecitorio a Roma. Rischia di saltare il secondo, la Coldiretti, anche l'ultimo presidio del territorio offerito dalla terremoto, caratterizzato da una prevalente economia agricola, con una significativa presenza di coltivazioni di pregio e allevamenti che è possibile salvare solo se la ricostruzione andrà di peripasso con la ripresa del lavoro che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo. Insieme agli animali sopravvissuti dalle stalle crollate, ci saranno anche prodotti locali salvati dalle macerie che rischiano per ora di sparire per le difficoltà del mercato locale provocate dalla crisi del turismo. e dallo spopolamento dovuto all'esodo forzato, ma anche ai ritardi nella costruzione degli alloggi temporanei. Sarà presentato il dossier Coldiretti, stalle tradite e distribuito un inedito filmato denuncia sui gravi ritardi della ricostruzione nelle aree rurali dove si sommano inefficienze, incompetenze e furberie. All'iniziativa saranno presenti i sindaci dei comuni colpiti dal sisma con i rappresentanti della Coldiretti e delle diverse realtà locali insieme al presidente nazionale Roberto Moncalvo che incontrerà i principali rappresentanti istituzionali. La richiesta di azioni urgenti di contrasto alla illegalità è contenuta in una nota che il direttore e il presidente di Confcommercio L'Aquila, quindi Celso Cioni e Roberto Donatelli hanno inviato al prefetto, al questore di L'Aquila, oltre che ai comandanti della Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Municipale. Fanno presente che l'approssimarsi della festa della donna e della tradizionale ad essa legata degli omaggi floreali, in particolar modo della mimosa, ci induce a sottoporre alle vostre cortesi attenzioni la necessità di porre in campo ogni azione possibile ed urgente di contrasto al fenomeno della vendita abusiva di piante e fiori che ogni anno in occasione della festa della donna dilaga in maniera particolarmente invasiva, arricando un grave danno alla categoria dei fioristi in regola con le normative di legge fiscali e contributive, in occasione di quello che rappresenta un appuntamento di particolare importanza per gli operatori del settore. I vertici di Confcommercio confidano in un positivo riscontro alla richiesta. E grazie a una collaborazione con l'Università di Tor Vergata, iniziata già dal 2013, il treno della Valle dell'Ieri e della Valle Roveto arriva a Berlino e lo fa presentando un pacchetto di iniziative che portano all'attenzione internazionale di bellezze naturalistiche e architettoniche del territorio, passando attraverso la ricchezza enogastronomica delle due valli. presentati una serie di percorsi, tra cui, per citarne alcuni, il treno delle antiche rue di Civitella Roveto, il treno dei cunicoli di Claudio di Capistrello, il treno trekking di Zampolo Schioppo, il treno dei castelli di Balsorano e di Isola dell'Ieri, anche il treno del gonfalone di Arpino e tanti altri ancora. I vari pacchetti turistici verranno presentati alla Fiera Internazionale del Turismo del 2017, che con oltre 180.000 visitatori, tra cui 108 operatori del mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi, è la maggiore fiera in mercato d'affari dell'industria e del turismo. Il convegno Market Trans Innovation offre un'eccellente opportunità di analisi delle tendenze del mercato internazionale, grazie anche alla presenza di tutti gli anelli della catena, tra cui i tour operator, i motori di prenotazione online, le destinazioni, compagnie aeree e alberghi fino agli operatori di autonalleggio. Grandissima soddisfazione è stata manifestata dai responsabili del Comitato Interregionale Salviamo la Ferrovia Vezzano-Rocca Secca, Emilio Cancelli, presidente, e Rosaria Villa, che è la vicepresidente. Presentarsi all'appuntamento della Tappa Abruzzese, dell'edizione 2017 dal Giro d'Italia di ciclismo, quella del centenario, nelle migliori condizioni possibili non solo a livello di qualità del manto stradale, ma lavorare anche per trasformare l'evento in una vetrina per rafforzare l'immagine turistica dell'Abruzzo, oltre che dei comuni che saranno attraversati dalla carovana rosa. Sono due obiettivi che il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, si propone di centrare in vista del 14 maggio prossimo, quando andrà in scena la Tappa Molesana-Bruzzese del Giro d'Italia, la frazione Montenero di Bizaccia-Blockhouse. Obiettivi che D'Alfonso ha ribadito questa mattina a Pescara in Regione, nel corso di una riunione con i sindaci e i dirigenti dei comuni interessati, dall'attraversamento della Tappa, oltre che con quelli delle province di Chieti e di Pescara. Su un totale di 151 chilometri di strade interessate, ricadenti nel territorio abruzzese, circa la metà è di competenza statale dell'ANAS. Sulla viabilità di competenza comunale e provinciale, ha spiegato D'Alfonso, la Regione, nel rispetto dei numeri di bilancio, si fa carico di recuperare economie da rinvenire e mettere a disposizione. Lo stesso lavoro sono tenuti affari anche comuni e province nell'ambito dei loro bilanci. All'incirca ha precisato la copertura economica necessaria per i lavori sui 151 chilometri di strade abruzzesi, ammonterebbe a 6 milioni di euro, anche se non tutti i tratti hanno bisogno dello stesso livello di manutenzione. Domani, 7 marzo, alle ore 16, nel Faudiar del Teatro De Marsi, la Fondazione Irti e il Comune di Avezzano, con l'ufficio del teatro, presenteranno lo spettacolo di beneficenza Qualche volta scappano, organizzato per i paesi terremotati della Terramano. Il cast al completo, composto da Pino Cortullo, Rosita Celentano e Attilio Fontana, sarà presente durante la conferenza stampa per rispondere alle curiosità dei giornalisti sulla commedia. Interverranno il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il vicepresidente della Fondazione Irti, Nicola Irti, l'assessore alla cultura Fabrizio Amatilli, il direttore artistico del Teatro De Marsi, Giampiero Nicoli, con i membri dell'ufficio del teatro e l'ufficio cultura del Comune di Avezzano. È stato presentato oggi, in conferenza stampa, dall'assessore regionale Silvio Paolucci, il testo unico delle leggi sullo sport al riguardo. Abbiamo un servizio. Veniamo. Un tagliando al testo unico dello sport regionale e nuove risorse economiche destinate ad associazioni ed eventi sportivi. Lo ha annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha seguito i lavori della Giunta regionale del CONI l'assessore Silvio Paolucci, che ha illustrato anche le nuove strategie della regione Abruzzo in ambito sportivo. Abbiamo cambiato rotta rispetto al passato. Un cambio di marcia che reputo deciso e forte ha esordito l'assessore Silvio Paolucci. Abbiamo previsto un tagliando alla legge regionale 20 del 2000, in particolare nella prima parte del testo unico, per rendere l'articolato legislativo più moderno e innovativo e previsto fondi a favore di eventi ed associazioni sportive, circa 500 mila euro solo nel 2017 ed altri 200 mila euro per gli eventi sportivi prestigiosi di carattere nazionale ed internazionale. Tra le novità introdotte, con le modifiche portate alla legge 20, c'è l'ingresso della scuola nella programmazione sportiva regionale. Abbiamo finanziato la promozione dell'attività motoria nelle scuole con un milione di euro, fondi che provengono dal capitolo della sanità e rilanciati il ruolo della formazione scolastica e del CIP, Comitato Italiano Paralimpico. L'assessore Silvio Paolucci poi ha affrontato il tema della impiantistica sportiva regionale. Abbiamo a disposizione circa 30 milioni di euro per ammodernare e rendere antisismiche le strutture abruzzesi. Ha aggiunto con gli eventi calamitosi di gennaio, ovviamente c'è la necessità di accelerare i tempi per assegnare i fondi destinati mirati a ripristinare gli impianti danneggiati. Le modifiche legislative al testo unico della sport saranno ora approvate prima in giunta e poi dal Consiglio regionale. Ascoltiamo al riguardo l'assessore Silvio Paolucci. Assessore Paolucci, più risorse ma soprattutto un nuovo testo unico sullo sport? Beh sì, è un nuovo testo unico che fa il tagliando a quello precedente che è datato 17 anni e che quindi ne asciuga le parti che non hanno di fatto colto gli obiettivi che si proponeva e ne disegna di altri perché ci sembrano innovativi e molto significativi. In particolar modo si equipare il ruolo del CONI al CIP e quindi credo che sia un investimento significativo. Il Comitato Italiano Paralimpico ha fatto passi da gigante in questi 20 anni e noi non avevamo una norma che lo riconoscesse e poi dall'altro lato mette insieme, mette dentro, inserisce con molta forza il ruolo dell'attività formativa e della scuola. Io penso che l'attività motore e l'educazione alimentare, abbiamo preferito di cogliere questi obiettivi anche con altre risorse, parta soprattutto tra le prime e le seconde nelle scuole elementari e quindi inserire il ruolo dell'ufficio scolastico regionale dentro l'attività formativa del mondo dello sport a nostro avviso è molto significativo. La legge 20 del 2000 da oggi assegna anche contributi sostanziosi? Beh perché quando siamo arrivati noi avevamo uno stanziamento pari a zero, invece abbiamo da prima nel primo anno incrementato fino a 400, oggi 500, quest'anno qualcosina in più e soprattutto a questo qualcosina in più, quindi oltre alle 500 mila euro noi abbiamo aggiunto anche 200 mila euro per promuovere con iniziative significative il nostro territorio, ovviamente grazie agli eventi sportivi. Credo che partendo davvero da zero si siano mossi passi molto importanti nel mondo dello sport in questi due anni e mezzo. Svolto ieri pomeriggio nei locali del centro anziani di Capistrello il convegno sulla ludopatia organizzato dall'amministrazione comunale alla presenza di numerosi cittadini e relatori hanno illustrato i vari aspetti del problema. Dopo i saluti del sindaco Franco Cicciotti che ha definito il gioco d'azzardo come una dipendenza che distrugge la persona e la famiglia e sulla quale le istituzioni hanno il compito di mantenere alta la tensione, la dottoressa Monia Giordani, assistente sociale mediatore familiare AIMS, ha relazionato sull'aspetto sociale della dipendenza da gioco. Il gioco d'azzardo patologico esordito è entrato prepotentemente nella nostra comunità. Alle persone che nel nostro paese vivono questo problema vogliamo far sentire che ci siamo, che si possono rivolgere al proprio medico di base ed avere da lui tutte le informazioni necessarie sull'iter da seguire. Secondo la dottoressa Giordani il gioco d'azzardo è un fenomeno che ha rilevanza sia a livello economico che sociale. Non solo gli uomini a giocare ma anche le donne, soprattutto tra i 40 e i 70 anni, gli adolescenti che spesso in mancanza di denaro si rendono anche autori di furti e gli anziani che nel gioco sperperano tutta la pensione. Le cause sono da ricercare nello stress, in ambito lavorativo, in periodi di difficoltà e nell'insorgenza o aggravamento di stati d'ansia. Il dottor Stefano Croce, biologo e ricercatore presso l'Università della Sapienza di Roma, è invece intervenuto sugli aspetti biologici della ludopatia, spiegando le similitudini tra dipendenza da sostanza e dipendenza da gioco. Ha chiuso gli interventi l'autor Moreno Marcucci, docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Chieti. Il problema della dipendenza è che la persona non ha consapevolezza del fatto che il suo comportamento sia sbagliato. La persona tende a proiettare nel mondo altro le sue ambizioni, i suoi desideri. Giocatori ha estremamente bisogno d'aiuto e prima se richiude una consulenza, meglio è. La famiglia in questo gioca un ruolo importante. Ed anche quest'anno, per l'8 marzo, tutti i musei e i luoghi della cultura statale apriranno le porte gratuitamente alle donne. Una giornata di festa che il Ministero dei beni e dell'attività del turismo guidato da Dario Franceschini celebra insieme le aperture gratuite con un'apposita campagna di comunicazione social e una galleria di donne eccezionali, la cui fama ha attraversato anche grazie all'arte e alla cultura. Reading, proiezioni, visite guidate, concerti e convegni quindi animeranno inoltre i musei di tutto l'Abruzzo. Dalla visita tematica nella sale del Museo archeologico nazionale d'Abruzzo, Villa Fruigeri di Chieti, alla scoperta di pendadi collane, amuleti e oggetti preziosi, alla donna nell'arte raccontata al mondo dell'Aquila e ancora il viaggio nell'universo femminile nella vita e nelle opere di Gabriele D'Annunzio nel suo Museo Casa Natale a Pescara. Viabilità, sviluppo turistico edilizia scolastica di sesto idrogeologico sono stati i temi chiave affrontati questa mattina a Pescara in regione nel corso di un incontro che il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, ha avuto con gli amministratori dell'Unione dei Comuni Montani e Madiella Orientale, Verda Ventino. All'incontro erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Palena, Claudio De Milio, il sindaco di Lama dei Peligni, Andrea di Fabrizio, l'assessore di Taranta Peligna, Giampaolo Rosato, il vice sindaco di Colle di Macine, Giuseppe Pacenza e il sindaco di Civite Lammessar, Raimondo Danilo Dorazio. Nello specifico, gli amministratori locali hanno indicato al presidente D'Alfonso alcune priorità varie, come il rifacimento del tratto di strada che conduce da Bivio di Lama dei Peligni al Bivio per Roccaraso lungo la ex strada regionale 84. La sistemazione poi del tratto di strada provinciale che dal Bivio di Caso riporta al Bivio per Lama dei Peligni e quella relativa alla strada comunale che colleghe i comuni di Lama dei Peligni e Colle di Macine. D'Alfonso assicurando il suo impegno nel quadro della sostenibilità economica al momento del bilancio regionale ha ipotizzato l'utilizzo di economie dello stesso bilancio per venire incontro alle principali esigenze del territorio dei comuni dell'Unione. Un film già visto, un disastro annunciato, denunciato e oggi purtroppo anche certificato. Sui conti abruzzesi rischia di abbattersi una bella batossa da parte di Bruxelles a causa dei risultati della nostra regione che rischia di perdere parte dei fondi europei per l'agricoltura non ancora spesi. A certificarlo è la Rete Rurale Nazionale, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha reso disponibili online la performance di spesa delle regioni d'Italia sui rispettivi programmi di sviluppo rurale 2014-2020, aggiornate al 31 dicembre 2016, a preoccupare più del solito e proprio l'andamento della spesa pubblica della nostra regione. Questa è la denuncia dei consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Questi dati ribadiscono i rappresentanti di Forza Italia, dimostrano con forza le nostre ragioni quando denunciammo mesi fa i ritardi di tutta la programmazione al 30 settembre 2016 dal Powerfest per arrivare al programma di sviluppo rurale, mentre il direttore generale Cristina Girardis e il responsabile dell'autorità di gestione Giovanni Savini innescarono una polemica basata sul nulla. Presentarono dopo audizione in Commissione Vigilanza un cronoprogramma dettagliato e puntuale che avrebbe riportato la spesa su posizioni accettabili. Invece il nulla, anzi la performance continua la discesa e ci allontaniamo sempre più dagli obiettivi annuali che la Commissione Europea indica annualmente. La strategia messa in campo è confusionaria, non rispondente alla realtà e alle dinamiche, ma soprattutto è portata avanti da una macchina amministrativa che è stata smembrata e mortificata in questi anni. Cavistrello ospiterà mercoledì 8 marzo in occasione della giornata internazionale della donna, un convegno dal titolo Stop al femminicidio, no alla violenza sulle donne. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale si svolgerà a partire dalle ore 10.30 presso l'Istituto Sabin. L'incontro vedrà la partecipazione dell'illustre penalista, non anche presidente dell'Associazione Penelope, ne codemo gentile impegnato nei più noti processi di cronaca italiana, tra cui, tanto per citarne alcuni, il giallo di Avetrana, il rito Rea e il delitto anche l'omicidio di Meredith Ketcher e della dottoressa Monia Giordani, assistente sociale, mediatore familiare AIMS e del dirigente scolastico, professoressa Francesca Di Tecco. Un'occasione per conoscere meglio di aspetti sociali e giuridici della violenza sulle donne, ma anche per sollecitare il confronto ed alzare l'attenzione su un tema così importante. Il ruolo delle istituzioni ha fermato proprio il sindaco Cicciotti, credo fondamentali in questa battaglia. Bisogna sempre tenere i riflettori accesi su questo tema affinché le donne prendano consapevolezza dei pericoli legati alla violenza, specie quella che si compie tra le mura domestiche e trovino la forza di denunciare chi fa loro del male. E anche quest'anno il Conservatorio Casella di L'Aquila propone alla città un'interessante resegna di concerti che vedrà protagonisti, i docenti di tutti i dipartimenti dell'istituzione con alcuni interventi di studenti. Sempre varie articolata la gamma stilistica dei programmi che incentrati principalmente sul repertorio classico spazieranno anche in altri ambiti. La prima parte della resegna da marzo a giugno si apre con un evento sui generis ma ormai consueto per l'istituzione. Un concerto dedicato alla festa della donna l'8 marzo alle 11.30 che vedrà impegnate docenti e studentesse del Dipartimento del Canto del Conservatorio in un'unica carrellata di musica al femminile. Nel pomeriggio poi dalle 13.30 un seminario aperto al pubblico dedicato al pianista e compositore Sergio Caffaro. La rassegna proseguirà poi dal 16 marzo sempre nell'ormai consolidato orario pomeridiano 18.30 dal 16 marzo al 15 giugno. Altri appuntamenti sono stati programmati quindi oltre a marzo anche ad aprile, maggio, giugno e l'ingresso è libero per tutte le manifestazioni. Passiamo alla pagina sportiva con il calcio serie di sconfitta di misura 1-0 della Vezzano sul difficilissimo campo del Monterosi, formazione che occupa le prime posizioni in classifica. Biancoverdi che ormai non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, dal commento che hanno già raggiunto la matematica salvezza, hanno disputato una buona gara avendo in campo alcuni giovanessimi, ma vediamo il servizio. Al Martoni di Monterosi arriva l'Avezzano, padroni di casa in larga parte confermati rispetto a quegli usciti vittoriosi domenica scorsa da Città di Castello. Fanasca sostituisce l'infortunato Palumbo. La squadra di casa parte subito forte, al settimo grande botta dalla distanza di Manoni che sfiora all'Eurogoal della domenica. Al dodicesimo, altra conclusione da fuori di Sivilla, Lewandowski risponde e devi in angolo. Due minuti dopo l'estremo difensore dell'Avezzano vola sul sinistro di Matusalem. Monterosi vicino ancora una volta al gol. Al diciottesimo, Pippi, Sivilla e Buono vengono murati dalla difesa abruzzese. È un assolo quello della formazione di mister D'Antoni. Al ventiquattresimo, uno due di Sivilla con Pippi, ma ancora una volta Lewandowski è super e si guadagna la palma del migliore in campo. Come un minuto dopo quando Sivilla riconsegna il favore al brasiliano neutralizzato in uscita dal portiere bianco-verde. Il primo a fondo dell'Avezzano si registra al trentatreesimo. Padovani scappa via a Matrone sulla sinistra, ma sul traversone salvatutto Montesi. La ripresa riparte sotto una fitta pioggia. Al diciottesimo, sulla punizione di Buono smanaccia ancora Lewandowski. Due minuti dopo, D'Antoni si gioca la carta per onullo che rileva Orlando Fanasca. Al ventiduesimo del secondo tempo, colpo di testa di Manoni. Pippi insacca, ma l'assistente alza la bandierina. Tre minuti più tardi, spaglia il tempo di uscita Gasperini, contropiede di Padovani e Mazzoleni è bravo e si salva coi piedi. Forzing del Monterosi, che al ventottesimo trova il meritato vantaggio. Traversa su un colpo di testa, ma a Manoni da due passi si tuffa e fa 1-0. Esplode il Martoni, che due minuti dopo esulta di nuovo per il gol di Sivilla, che viene annullato per offside. Al trentunesimo, Shodi per onullo. L'ex Viterbese parte sulla sinistra, salta due avversari, ma sul traversone insidioso la difesa abruzzese si salva ancora. Costantini e Bailon entrano a difesa del vantaggio. Il Monterosi porta a casa altri tre punti, che le consentono di restare in scia di Rieti ed Arzachena. Il servizio di sport termina questa edizione del giornale. Prima di salutino, come sempre, vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet, che è antennaduetv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena Due Vezzano, dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena Due ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Dunque, grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie per averci seguito anche oggi.